Cos'hai preso? Cos'hai lì? No! Stronzo! No! Il mio coso dei blink! Silvio, guarda, veramente a sto giro, guarda, vai fuori di casa. Ah, mi ero dimenticato di farvi vedere una chicca. Avete capito chi è? E poi c'è l'altra chicca. Avete capito chi è? È inutile che mi guardi così, eh. Ma che non è casa tua, ma che facciamo quello... Fedez, noto rapper e personaggio televisivo, ha condiviso con i suoi fan un episodio esilarante, ma anche un po' frustrante. Il suo cane Silvio, ancora cucciolo, è in fase di addestramento, ha combinato un disastro. Il piccolo amico a quattro zampe ha infatti distrutto uno dei pezzi più preziosi della collezione di Fedez. Nonostante Silvio stia seguendo lezioni di addestramento per migliorare il suo comportamento, sembra che alcune abitudini siano ancora difficili da correggere. Come tutti i cuccioli, Silvio è vivace e imprevedibile. E Fedez dovrà pazientare ancora un po' prima di vedere i risultati dell'addestramento. Nel frattempo, il rapper continua a condividere questi momenti divertenti e quotidiani con i suoi fan sui social, mostrando la sua vita casalinga e il legame che sta costruendo con il suo cane. Silvio è già diventato una piccola star, grazie ai video e alle foto che Fedez pubblica regolarmente. Queste chicche non fanno che aumentare l'affetto del pubblico per il rapper, che non si limita solo alla musica, ma apre le porte della sua vita privata, creando così un rapporto ancora più intimo con i suoi follower. Guarda, si fa il bidet per derideri.